allora lucio salis pittolongo domenica 3 novembre 2013 e approfittiamo per farci una chiacchierata un po informale a miami luccio come mai sei finito qui a dolbia e come mai perché ero in barbagia si praticamente lì c'era troppa vita quindi eravamo tutti scombinati da questa vita notturna da vita di una non sapevi mai cosa scegliere a quale museo andare quale performance assistere insomma una vita indiavolata per cui ho detto voglio un po di calma me ne vado a ulbia dove non succede niente e mi rilasso insomma poi c'è il porto l'aeroporto tu da quanto tempo sei qui sono due anni e mezzo sono arrivato qui e ho visto che non succede niente davvero ho solo cambiato clima per il resto siamo in sardinia cosa vorresti fare che aspettative avevi dato che la mafia non mi fa fare il mio mestiere anzi i miei mestieri pensavo di sfruttare almeno le cose che ho imparato i miei progetti per il turismo creare un po di cultura un po di turismo perché questo è un bellissimo posto di cui io sono innamorato da ragazzino però è un posto di passaggio purtroppo ostaggio di politica anti asini a livello regionale a livello a tutti i livelli noi qui siamo le vittime di questa gente che si va a pomare di soldi per non fare niente perché non hanno ancora capito che per fare il turismo ci vogliono idee strutture volontà coraggio progetti offerte invece siamo ancora anzi ogni anno è peggio siamo ancora a livelli dove una famiglia di cinque persone se deve spedere 1.400 euro solo di biglietto di nave se ne va a marrakesh ci sta un mese in un albergo a cinque stelle con quei soldi tu cosa sai fare come ti come ti proponi come ti sei proposto come mi sono proposto con dei progetti seri cioè un paio di questi progetti per fare per non chiacchierare a vuoto sono stati realizzati a roma dalla giunta a vettere con renato nicolini che umilmente da genio qual era veniva a casa mia a trovare veniva a pranzo perché mi aveva sentito in uno spettacolo no al romain c'erano tutti gasman tognazzi c'era tutto il cinema il teatro italiano eccetera e mi ricordo che siccome era di lunedì c'erano tutti loro non lavoravano quindi quando ho finito tutti entusiasti eccetera sono venuti tutti a farmi complimenti e molti li conoscevo di persona molti li conoscevo di fama e questo non lo conoscevo quindi dico chi è mi abbraccia mi bacia sei un vulcano sei qui sei là e poi me lo dice lui dice sono renato nicolini sto cercando idee perché non si può vivere a roma eravamo a metà primavera non si può vivere a roma d'estate con roma deserta eccetera quindi se hai qualche idea e sicuramente tu ce l'hai vieni passa ma trova dice passa nel stesso rato e mi racconti e non ha fatto passare molto tempo perché i politici veri sono questi capisci di domani mi ha chiamato verso le 11 io avevo una bella casa a roma di fronte a dove adesso hanno fatto la regione prima era campagna c'erano delle ville di tre piani e campagna quindi mi chiama e io mi stavo già dimenticando renato nicolini dice senti io sto in assessorato passa ma trova poi andiamo a mangiare un boccolo insieme lui era coltissimo è però gli piaceva usare un po lo slenkroman eltono è arrivato non passa ma trova tu che stanno arrivando amici di oliena stanno portando il neppente cinque litri di neppente di oliena e che ed è vino il miglior vino del mondo nettare dell'idee e poi stanno arrivando da un momento all'altro due amici di carlo forte che mi stanno portando cinque chili di tonno pescato la settimana scorsa quindi dicendo abiti un'ora dopo era seduto a pranzo con noi quindi parlami dei tuoi progetti e io glielo ho detto gli ho parlato di un progetto che ho portato a Villassimius 40 anni fa 45 anni fa e il sindaco mi ha fatto perdere tre mesi tra l'altro il sindaco è una bravissima persona no è di nuovo sindaco adesso 43 anni però non hanno mai fatto niente l'idea era voi quanti abitanti fate 3.000 e d'estate 60.000 e cosa gli offre queste 60.000 niente e ci sono due discoteche ma chi sarebbe stanno chiudendo in tutto il mondo le discoteche allora te lo dico in breve così siccome stanno rubacchiando io l'ho portato 60 70 sindaci questo progetto alla fine mi sono scocciato di avere a che fare con gli asini e quindi agli ultimi gli ho detto ma scusate io sono 45 anni in giro per l'italia per il mondo l'ultima volta sono partito 22 anni fa e c'era un liceo del paese un po dappertutto non siamo del villaggio non siamo del quartiere minchia torno adesso non ci sono più non c'è più lo siamo del paese da nessuna parte li hanno fatti tutti i sindaci assessori ed è la verità questi non sanno né leggere né scrivere fare il sindaco per loro vuol dire scroccare pranzi farsi vedere in giro c'è il signor sindaco fare il sindaco vuol dire trovare i soldi per la comunità creare servizi quello che fanno anche il sindaco di orbia che è un mio amico come diciamo un mio amico conoscente lo può fare un ragazzino di 12 anni mettere quattro firme tanto tutto va come è sempre andato ma non è così faccio questa parentesi un piccolo escursus a tutti questi ho raccontato che c'era un sindaco non molti anni fa forse dieci a un paese di 800 anni in calabria non in svizzera in calabria cletto si chiama il paese questo qui quando ho visto che berlusconi continuava a tagliare tutti i trasferimenti a dare le colpe a tutti della sua incapacità delle sue ruberie prima eravamo in tre a capirlo chi era questo ma adesso si stanno accorgendo un po tutti cosa ha fatto lui che era berlusconiano tra l'altro era perché era mandato a quel paese in fretta ha preso la moglie e la figlia le ha sedute davanti al televisore gli ha fatto registrare tutte le pubblicità che ormai è l'80 per cento di quello che passa in tv poi cosa ha fatto ha preso la carta intestata del comune ha scritto a tutti questi qui fiat banker robagnati diretti mi serve la palestra a me non mi frega niente di chiamare la palestra no pirelli basta che mi date i soldi gli hanno dato i soldi quasi tutti questo c'ha più servizi di cagliari c'ha palestra palestra e coperta piscina coperta parco parchi giochi asili nido tutto biblioteca cineteatro centro polivalente cioè una cosa micidiale una cosa del genere in sardegna senza pubblicità e riuscite a farlo un sindaco vero che è un mio amico che si chiama pietro paolo piso sindaco di lacone ha preso l'acone che era un paesino scalcinato fuori dal mondo vai a lacone adesso sembra una cittadina svizzera sembra di stare in piemonte quello ricco perché c'è tutto le strade pulite belle case non ci sono le case alla sarda sai queste io le chiamo le case in dialetto queste ci sono quattro blocchetti hanno messo due finestre non hanno intonaccato non sono finite non le finiranno mai perché le conosco da 50 anni invece a lacone tutto viari alberati ci sono sette otto campi da tennis ci sono campi di calcio pure in una posizione scomoda ha fatto un mega parcheggio a un anfiteatro l'ha aperto un mega parcheggio per cento pullman per duemila 3.000 macchine un sindaco uno un altro bravo era a cagliari che si chiamava salvatore ferrari era siciliano l'unico sindaco che ha avuto cagliari io avevo appena fondato radiolina e faceva un programma di due ore dove facevo quello che ho sempre fatto denunciare proporre eccetera ho fatto di mettere il vice sindaco di cagliari in diretta pippo lubelli ho fatto arrestare un paio di assessori regionali per l'inceneritore di quarto e lui che era un sindaco vero mi chiamava un giorno se non ho capo cosa devo fare come arrivavano a me tutte le lamentere c'è da tagliare l'erba alta nelle scuole di via dante che si è riempito di insetti topi pidocchi e lui lo faceva istantaneamente mentre era al telefono con me chiamava l'ufficio giardini e gli diceva domani mattina pubire lì poi cosa non ci sono le luci in via seduci sarà fatto capisci questo deve fare anche un sindaco ascoltare quello che ti dicono dei cittadini e non dire vedremo le faremo sapere. Lucio il tuo ultimo spettacolo quando quando l'hai fatto l'ultimo? Poi te lo dico ti voglio dire questa cosa di dei politici no questa cosa di Renato Nicolini quindi fatti conto che fosse oggi tre lui viene a pranzo io gli racconto il primo progetto che era quello di creare una fiera noi siamo nel mediterraneo nessuno si ricorda una cosa che poteva diventare col tempo la più grande mostra mercato fiera permanente del mediterraneo sono soldi economia coi soldi fai cultura con la cultura fai soldi cioè solo questi delinquenti di Tremonti eccetera potevano dire con la cultura non si mangia il contrario è senza cultura che non si mangia e con l'ignoranza che vuole di fame e infatti guarda l'italia dopo vent'anni di berluscona cosa è successo che non avendo modo di cioè lui voleva far vivere la città cosa che poi ha ripreso splendidamente rutelli che come politico nazionale fa cagare ma come sine che è stato il migliore di roma io c'ero prima durante e dopo era la più bella città del mondo quando c'erano pulita ordinata non c'erano delinquenti perché perché il pubblico il popolo era in giro la città era invasa dai romani quindi ti voglio vedere dando fastidio o violentando una donna con tre milioni di persone in giro ma ti massacrano solo se lo pensi comunque io questa cosa l'ho proposta in sardegna dove c'è terreno asproso non abbiamo niente ma con più pascoli quindi voglia terreno l'idea era di chiudere una zona più grande è meglio è cento ettari otto ettari cinque ettari per poi ingrandirsi chiudere far pagare un biglietto mettere i servizi luce fogna e fare questa mostra permanente a roma questo non lo puoi fare te ne devi andare in casinevo un po poi ci sono mille problemi anche perché gli terreni a pascola non ci sono ce n'è vicino a servetti dicendo roma roma c'è il fiume la mamma di tutti quindi tre settimane dopo mi chiamano i corini e dice nava taglia sto nastro ma aveva già fatto tutto ha chiuso un chilometro di tevere dove non puoi saltare perché i manicondi ci sono i birbacioni dappertutto e quindi si pagava 5 mila lire però davano un biglietto a frisarmonica era altro così no tutti i tagliandi coupon per 10% di sconto di coupon per un gelato per i bambini un coupon per la lotteria eccetera abbiamo girato 15 miliardi in un mese sai cosa vuol dire cioè i romani la sera erano lì c'eravamo noi e le zanzare però un chilometro di stand da una parte un chilometro di stand dall'altra due chiate in mezzo al fiume con una per i gruppi musicali che si avvicendavano quindi moseca e tutti guadagnavano poco ma c'era per tutti e l'altro per i fuochi d'artificio a mezzanotte due caronte coi gozzi portavano la gente da una parte all'altra c'era il coupon per passare dall'altra parte è una figata la gente era tutta lì cioè è stato il primo anno in cui i romani non hanno votato la città si fa ancora si chiama tevere expo e l'idea è mia ed è parte di questo progetto che ormai mi sto elaborando da 40 anni si chiama easy perché è bello da sentire dolce facile perché vuol dire facile l'idea di qui dove come ti ho detto ho portato a più di 60 sindaci cosa fanno rubano una riga i soldi per me non ci sono per il progetto no rubano una riga e hanno fatto cortesa vertas una figata no una stronzata perché sono tre giorni di casa 15 giorni di casino perché il comune i comuni sardi non hanno sindaci ma ci hanno anche impiegati che sono parenti dei non sindaci che non sanno mai corrispondere al telefono a volte quindi non tutti per favore ma molti sono così lo dico con condizione di causa quindi immagina questi che devono creare un evento anche piccolo vanno in tilt perché bisogna mettere chiudere una piazza o chiudere uno spazio quindi ci vogliono le barriere ci vogliono i migili che già questi lavorano poco e sono sempre stanchi o sono sempre al bar figurati questi che ma io sono malato ma io sono in ferie quindi li crei un casino della madonna fanno tre giorni di manifestazione un mese di rottura di balle per tutti per i paesani perché abita lì dove devi fare le cose che ci guadagna solo questi ladruncoli che vendono olio a 37 euro la bottiglietta da poco più di mezzo litro qualcuno che vende il miele eccetera ma al comune non rimane niente agli abitanti rimane solo una grattura di balle e non servono a niente queste cose allora partiamo da un assunto il fondamento le idee i soldi si parla con le idee non è vero che si fanno con i soldi ci vogliono anche i soldi per certe cose ma se non c'è l'idea i soldi puoi mettere dove non batte il sole insomma sardegna noi passiamo per essere una regione turistica era vero vent'anni fa oggi siamo la vergogna del mondo comunque non ci sono strade dove ci sono strade non ci sono cartelli dove ci sono cartelli sono sparati quindi non li leggi non abbiamo servizi non abbiamo pulmonia e pulmonia navetta per dal porto dall'aeroporto per fare un circuito non abbiamo un circuito non abbiamo professionalità cioè ce li abbiamo i professionisti ma sono tutti fuori dalla sardegna se ne vanno c'era ci abbiamo una mazza diciamo l'abbiamo un bel sole un bel mare che non abbiamo inventato noi abbiamo quattro muraghi erano otto mille e cinquecento trent'anni fa adesso ne sono rimasti 4 o 5 non so se li sono mangiati se li sono rubati li hanno smontati per fare le vili abusive nelle coste le piscine se io sono di lecco e voglio venire con la mia famiglia a visitare finalmente la sardegna dove vado immagina di essere uno continentale non parliamo degli stranieri che ci pisano in testa e hanno ragione e gli unici che conoscono la sardegna sono i tedeschi tra l'altro più di molto più di sardo dove vai qual è l'offerta capellacci che si ruba 200 mila euro per dargli alla santa anchea fine stagione per promuovere il turismo in sardegna ma se il turismo in italia l'ha ucciso berlusconi con tutta questa cosca di asini ignoranti fino a vent'anni prima di berlusconi noi campavamo dal turismo il turismo era 7 per cento del pil mi sembra oggi non è neanche l'uno per cento quindi a parte le cose che secondo me hanno distrutto loro di notte tipo pompei le mura a roma dietro piazza del popolo perché le capri ignoranti questo possono fare comunque arrivi in sardegna quando ero ragazzino io si facevano tre mesi di villeggiatura ricchi e poveri adesso ma i ricchi anche non possono fare tre mesi perché sono dietro al soldo no quindi cosa succede uno a due settimane i ricchi e i poveri la differenza è che i ricchi le fanno 400 volte l'anno una o due settimane e i poveri lo fanno in agosto perché siamo l'unico popolo occidentale che prende le ferie tutti in agosto non si sa perché cosa fai in otto giorni o in 15 giorni il veneno in sardegna vedi la sardegna primo perché non sai dove andare secondo perché non c'è niente siamo disorganizzati non c'è niente una persona alla quale ti puoi rivolgere no io ho visto tre o quattro gabbiotti in tutta la sardegna e pt ente provinciale turin chiusi information chiusi sempre c'è la da un pastore a una famiglia senza tempo che almeno si compre dalla piozza no come finisce finisce così che la gente quando vede la malapparata il primo villaggio che trova va e si fa sequestrare e rimane lì e non si muove otto o dodici giorni non si muovono mangiano piscine a cale vanno al market vicino a fare la spesa in una spesa nel market vicino specialmente qui al nord ti fai la spesa per un mese a roma a milano a berlino perché raddoppiano triplicano i prezzi già a metà al primo di luglio grandi scienziati e poi quelli non li vedi più cioè quelli la prossima volta se ne vanno in puglia dove c'è vendola che sa cos'è il turismo e sa cos'è amministrare una regione allora la mia idea qual è siccome non possiamo portare i turisti a vedere la sardegna portiamo la sardegna in un punto con globiamo il meglio di quello che abbiamo in un punto in un'area e deve rimanere fissa però la te la puoi fare per tre giorni quella è una minchiata alla sardegnola proprio gli asini fanno questo anche perché poi la gente non si ricorda non sa quando è se la ripeti è una stupidaggine se invece si trova un sinaco col cervello e si trova un'area a disposizione ma che adesso si dà incomodato 90 anni lo fanno anche i pastori la buonanica di Berlinguer ha dato un'isola intera incomodato a una famiglia di pastori a 90 mila lire l'anno mi ricordo tutto quello che gli dicevano è un miliardario se fosse stata la famiglia Berlusconi sarebbe tutto un palazzo una porcinaia gigante perché questi costruiscono un porcinaia basta vedere i villaggi nelle coste quindi portare lì noi abbiamo i migliori i più bei costumi del mondo non c'è un paese al mondo che abbia costumi belli e tanti come la sardegna allora abbiamo ancora per poco alcuni tra gli artigiani più bravi del mondo coltellai qualcuno conosce patata no conoscono toledo patata no eppure a patata c'è gente che lavora bene quanto quelli di toledo la colpa di chi è dei politicanti